Il contenuto dell'emendamento del collega Fico è più stringente, allora l'emendamento è già stato assorbito, quindi non c'è bisogno di discuterlo e metterlo in votazione. È assorbito o non è assorbito questo emendamento? Mi scusi, perché in base a quello che ha detto il collega Peluffo, questo contenuto è già presente in maniera addirittura più stringente all'interno del testo. Ci dica lei. L'onorevole Peluffo ha espresso un giudizio politico, dal punto di vista della forma l'emendamento va votato, perché non c'è nessun'altra modalità di procedere. Prego, onorevole Nuti. Grazie, Presidente. Allora, il collega Peluffo, il relatore ha detto una balla. No, mi scusi, non mi metta in bocca cose che la Presidenza non ha detto o ne poteva dire. L'emendamento è diverso dal testo che è attualmente in discussione. L'onorevole Peluffo, da relatore, ha espresso il suo parere. Allora, metto in votazione l'onorevole Nuti. Vuole intervenire nel merito, spero. No, a sottolineare che quello che ho affermato non è che sto dicendo che lo ha detto la Presidenza. È un nostro giudizio. Dopo aver ascoltato il collega Peluffo, dopo aver chiesto se quindi il contenuto di questo emendamento è assorbito, è all'interno del testo come ha affermato il collega Peluffo, lei ha detto di no. La nostra considerazione che possono fare tutte le cittadine è che il collega Peluffo ha detto una balla. Grazie. Allora, io metto, onorevole Peluffo, no, non può parlare di nuovo su questo tema. Io ho detto una cosa banalissima che ripeto. Questo testo è sostitutivo del testo in discussione, quindi in quanto tale va messo in votazione. Se non ci sono altri interventi lo metto in votazione con il parere contrario di Commissione e Governo e favorevole del relatore di minoranze. Si è aperta la votazione.